ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere come funziona nel dettaglio il mining o farming come volete chiamarlo di chi ha network andiamo a vedere le impostazioni è un tool molto utile per riuscire a calcolare bene i plot che dovrete creare sui vostri hard disk andiamo a vedere tutto questo dopo la sigla andiamo a vedere allora come impostare il mining di chi ha network mi raccomando per fare questa sorta di mining non è necessario ovviamente una connettività ad internet ultra veloce perché la potenza chiamiamolo così computazionale che viene data la risoluzione dei nodi dipende ovviamente dal vostro hard disk e dal vostro hardware ricordo che chi è network è la prima blog chain a utilizzare la proof of space in questo video sto utilizzando la cene di chi ha diciamo in modalità demo vi farò vedere alcuni passaggi allora partiamo dal fatto che prima di riuscire ad operare sempre meglio sincronizzare la blog chain dopodiché bisogna andare su plot e creare questo su questo spazio vi ricordo che fare l'operazione di plotting non porta di per sé nessun guadagno perché il guadagno vero e proprio lo porta poi l'operazione di mining o farming come vogliamo chiamarlo allora arrivata arrivati in questa schermata non dobbiamo far altro che cliccare su plot aggiungi plot e ci troveremo davanti a questa schermata dal menu a tendina scegliamo il plot non utilizzate il k 25 perché serve solo per dei test e quindi partite dal k 32 o al massimo il k 35 come vedete a fianco ad esempio a k 32 c'è scritto spazio temporaneo perché questo plot verrà creato e installato sul vostro hard disk più veloce l ssd un'altra cosa da tenere a mente che questi file vengono creati con una capienza di 100 giga una cosa che bisogna ricordarsi che questi file plot occuperanno uno spazio di 100 giga ma per essere creati questi spazi utilizzeranno 200 giga del vostro hard disk quindi in base alla capienza del nostro hard disk andremo a selezionare i plot spazio di 239 giga in questo caso viene chiamato temporaneo perché viene occupato al fine di creare poi il file da 100 gigabyte il file finale del plotting andando qua sotto andiamo a scegliere il numero di plot allora dipende sempre dalla dalla capienza del vostro hard disk perché per mettere plot in parallelo vuol dire che dovrete avere delle capienze enormi per quanto riguarda l'hard disk supponiamo un computer medio dove ci sono circa 500 gigabyte di hard disk dove all'interno c'è installato il sistema operativo e altre cose e supponiamo di avere libero circa 300 gigabyte all'interno di questo hard disk noi potremo solo creare un plot quindi non potremo andare a creare più plot contemporaneamente perché è solo un plot abbiamo visto che ci va a occupare più di 230 gigabyte quindi se lo spazio disponibile sul vostro al disk è limitato e potete solo creare un plot non cliccate plot in parallelo ma andate su aggiungi plot alla coda va da sé che qualora abbiate un hard disk e mega capiente allora lì sì che potrete creare magari più plot e in quel caso metterli in parallelo e farli lavorare contemporaneamente cliccando sulla modalità avanzata vediamo alcuni dati questi valori cosa sono sono i valori che vengono utilizzati per far funzionare al meglio il plot che avete selezionato quindi per far funzionare questo plot da 239 giga di spazio temporaneo per creare il plot finale da 101 giga sono 232 thread e 3.3 giga e mezzo di ram quindi comunque attenzione perché se poi mettete ad esempio due o tre plot in parallelo questi dati vanno moltiplicati per il quantitativo di plot che intendete far lavorare quindi se mettiamo cinque plot in per assurdo dovete moltiplicare questi dati per 5 quindi dovete avere comunque un computer abbastanza potente per far girare tutti questi plot quindi per riuscire a massimizzare i vostri plot se intendete ovviamente farne più di uno e conoscere al meglio le caratteristiche del vostro computer spostandoci più in basso al punto 3 cosa ci dice selezionate la cartella temporanea già vi sta consigliando di utilizzare l ssd veloce praticamente in questo file aggiungendo il percorso di questa cartella noi non andiamo far altro che a inserire il temporary space di 239 giga in questo caso e dobbiamo utilizzare come detto prima l'hard disk più veloce perché deve creare il file finale mentre al punto 4 bisogna andare a selezionare di nuovo un percorso però questa volta possiamo utilizzare un hard disk esterno comunque un hard disk lento perché in questo percorso e in questo hard disk che andremo a selezionare verrà caricata la cartella del file del plotting finale ovvero verrà creato il file da 101.4 gigabyte una volta definiti questi parametri non ci resta che far altro che creare il nostro plot un tool molto utile che vi lascerò in descrizione lo potete cercare su google digitando chi ha plot plan praticamente un tool dove voi andrete a inserire la capienza totale dei vostri hard disk e lui vi farà un calcolo questo calcolo servirà per farvi capire come sfruttare al meglio lo spazio che avete a vostra disposizione questo calcolo per e viene eseguito per i plot finiti non i file temporanei quindi facciamo un esempio super supponiamo di avere a disposizione 10 terabyte cosa dobbiamo fare andiamo dal menu a tendina mettiamo terabyte clicchiamo e scriviamo 10 terabyte e qua cosa vediamo vediamo cosa ci può consigliare tra k 32 k 33 k 34 questa schermata cosa ci dice che col k 32 noi possiamo fare 92 plot per uno spazio occupato del 99,04 per cento oppure se facciamo 28 k 32 più 31 k 33 lo andiamo ad occupare del 99,98 per cento mentre se facciamo un k 32 5 k 33 19 k 34 andiamo occupare praticamente il 100 per cento della nostra memoria torniamo alla nostra schermata supponiamo di aver creato le nostre due cartelle non dobbiamo far altro che andare su coltiva vi ricordo che la creazione del plot non vi permette di guadagnare nulla ma è solo diciamo la semina per poi andare a raccogliere la nostra coltivazione dopodiché abbiamo creato tutte queste cartelle andiamo su coltiva ea questa schermata facciamo altro che andare a aggiungere il plot che abbiamo creato ok quindi una volta che avete messo la coltivazione non dovete far altro che aspettare di ricevere i guadagni una cosa molto importante non riceverete guadagni in automatico cerco un attimo di spiegarlo immaginate come la lotteria di fine anno e i vostri plot sono i biglietti che avete acquistato dal giornalaio quindi va da sé che più plot avete più di questi biglietti della lotteria avete più avete la possibilità di essere estratti come address per andare a risolvere i nodi e quindi per avere il vostro guadagno momento in cui la block chain di chi ha chiede un determinato numero di hash per andare a risolvere il nodo va da sé che più plot ai disponibile ai più possibilità di avere esattamente quel numero di ascia all'interno dei tuoi file ritengo a sottolineare che non è detto che voi mettiate più hard disk in contemporanea quindi più plot anche eventualmente in parallelo e riuscirete ad avere un guadagno giornaliero sicuro no assolutamente perché funziona il processo come vi ho appena spiegato siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che questo video vi sia stato utile e lo abbiate trovato interessante mi raccomando lasciatemi un like su questi video per aiutarmi a stra indicizzato su youtube commentateli e iscrivetevi alla nostra community telegram ovviamente sottinteso iscrivetevi al canale